Intorno al 2000 ci arrivò una mail di una persona che diceva «Io sono malato di sclerosi laterale amiotrofica, non posso parlare con la mia voce, l'unica speranza che viene è dalla ricerca scientifica sulle cellule staminali e embrionali, ma quella ricerca in Italia è vietata». Ed è ancora così. Il ricercatore che facesse la ricerca che si può fare negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Olanda, in Italia andrebbe in carcere. Ed è ancora così.